Fondamentalmente il leitmotiv, io lo dico sempre, è quello della libertà. Libertà di scelta, non solo in termini di vaccini perché sarebbe veramente riduttivo, ma libertà di scelta sulla propria salute, cosa voglio mangiare, cosa non voglio mangiare, come mi voglio curare, un libero accesso alle informazioni sanitarie e mediche, quindi mai più censura, mai più bavaglio. Sanità, spesa di fondi pubblici e una comunicazione trasparente verso i cittadini. Le tre basi della candidatura alle elezioni regionali della lista Insieme Liberi, per il quale oggi ha avuto luogo la presentazione dei candidati del Collegio di Trieste, passa attraverso la raccolta firme, prima sfida per la lista guidata dalla candidata Giorgia Tripoli. La raccolta firme è una bella sfida, anche perché siamo fondamentalmente gli unici che sono costretti a questa prova, perché abbiamo un numero minimo di firme, che sono 4.750, però poi c'è un minimo diviso nei cinque collegi. Spero che la popolazione ci dì una mano, perché se non ci dà una mano, poi è inutile lamentarsi che si va a votare, non ci si sente rappresentati, che ci sono sempre le stesse facce, sempre le stesse persone. Riguardo i temi trattati e che saranno fulcro della campagna elettorale, spazio alla prevenzione, in sanità e non solo. Attenzione alla spesa dei fondi in regione, con riguardo specifico agli stanziamenti europei, e grande enfasi ai principi di libertà e trasparenza. Principalmente un tema sulla sanità, dove però per sanità non si tratta semplicemente di implementare i pronto soccorsi, i medici e quant'altro, che va fatto, che va fatto oggettivamente, ma la sanità è intesa come prevenzione. Quindi partire dall'essere umano, cercare di fare in modo che i cittadini del Friuli, Venezia e Giulia possano mangiare in maniera sana, vivere in maniera sana, quindi essere degli individui più sani, mentalmente e fisicamente. Sicuramente anche un'attenzione su quelli che sono gli investimenti in regione, parliamo anche di grandi opere, parliamo di PNRR, quindi attenzione di non far passare per esempio il messaggio che i fondi del PNRR sono regalati, perché alla fine è il nuovo MES e sono soldi che dovremmo restituire.